Un nuovo design, finalmente più vicino ai gusti europei, caratterizza il Tivoli, crossover coreano di buon blasone che unisce dimensioni compatte a finiture di grande qualità e impiego di materiali di qualità superiore. Compatto ma in grado di ospitare comunque 5 persone comodamente, Tivoli offre due soluzioni possibili per le motorizzazioni, entrambe dei 1600 cm3. Benzina e diesel sono abbinabili a cambio manuale o automatico e alla trazione anteriore o integrale. A questo punto le componenti essenziali per il successo ci sono tutte. A completare l'offerta inoltre c'è anche un range extended, distinta dalla versione termica per il disegno diverso dei fari, la calandra e una capote traslucida, è mossa da una combinazione di un piccolo motore generatore a benzina e un elettrico da 95 kW, velocità massima 150 orari.